Massimo non ricorda voi ci fai ciò che vuole Ecco, mi ricordo, vai! Sono contento Una cosa molto... Una cosa molto... Iva che... E io... No! No! Io! No! Sono fuori... Un po' di... 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 La fortuna di condividere lui qualche mese facendo anno domini mille anni fa Tu eri Gesù, San Piavino, eri Gesù... Ma sono sempre Gesù No, ero... Non mi ricordo Si, ero un portale, ero stato un portale Si, si, si... Ma c'era anche Mattioli, Maurizio Mattioli Che in quel periodo doppiavano, diciamo, dei piccoli personaggi E lui faceva un cristiano che doveva morire Ma... E dice... Il povero ci non ha Monica Ma povero, nel senso è piccolo, sa bene Cioè nel senso... Dice, vabbè, metti una parola Lui urlò... E' stato Verone E' stato Verone Non si sa che è stato Verone Ho cambiato la storica Questa era il grande... Io facevo Gesù o... Io lo facevo con una voce così O... Probabilmente era questa... Non c'era l'altro Probabilmente era questa Non neanche era l'altro Probabilmente... Buon pranzo Passiamo logo a questa signorina Grazie a tutti Grazie a tutti